Elisabetta Belloni è una mia amica, è una personalità di straordinario valore, è una funzionaria dello Stato ed è la capa, la capo dei servizi segreti, il DIS. Ma in una democrazia che rispetti i canoni, i criteri, le regole, il capo dei servizi segreti in carica non diventa Presidente della Repubblica. Questo accade in paesi che democratici non sono o non sono pienamente democratici e chi fa riferimento a George W. Bush che nel 1979 lascia la scia per candidarsi alla vicepresidenza degli Stati Uniti fa un riferimento del tutto fuori luogo. Altri sono i paesi in cui è avvenuto quello che qualcuno vorrebbe far avvenire. Allora io ho il massimo rispetto per la Belloni, è una mia amica, se la vorranno votare ed avrà i voti la rispetterò come Presidente della Repubblica. Le ho mandato un messaggio per dirle esattamente questo. Ma io credo che ci siano dei momenti in cui per rispetto a questi palazzi e alle istituzioni si debba avere la forza e il coraggio di dire quello che tante persone non hanno la forza e il coraggio di dire, perché vivono nella paura, nella preoccupazione, nel bisogno di essere sempre maggioranza. Se dobbiamo eleggere il capo dei servizi segreti alla Presidenza della Repubblica, io rivendico di essere minoranza. Noi non la voteremo.